Buonasera ai nostri telespettatori, Napoli 2021, elezioni amministrative, si va verso il voto 3-4 ottobre per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco della nostra città. Con grande piacere diamo il benvenuto nei nostri studi a un luminare di fama internazionale, già presidente della Società Italiana di Cardiologia, il professore Pasquale Perrone Filardi, benvenuto. Buonasera, bentrovati tutti gli ascoltatori. Capolista per Forza Italia, per il Consiglio Comunale di Napoli, quindi con Catello Maresca Sindaco. E allora, professore, una scelta che è dettata dalla volontà di portare competenza e come anche un po' il suo slogan, il suo motto, i valori per la città di Napoli. È una scelta dettata dal cuore e dal ragionamento. Il cuore è per Napoli, perché questa città ha bisogno di forze propulsive, di energie pulite, di forze della società civile che abbiano voglia di restituire quello che hanno avuto e vogliono impegnarsi per la città. E con competenza, e questa è la parte più logica del ragionamento, ognuno portando quella che è la sua storia personale, che in tutti i candidati del progetto di Catello Maresca è una storia personale di professionisti, di gente impegnata nel sociale, nel volontariato, nella cultura, nell'imprenditoria. Insomma, la parte buona della città è la parte che vuole mettersi con senso di restituzione a disposizione della città di Napoli, che lo merita. C'è stato grande entusiasmo da parte dei vertici di Forza Italia, a livello anche nazionale, proprio per quanto riguarda la scelta della sua candidatura, quindi l'appoggio di Tajani, la stessa Mara Carfagna che ha incontrato più volte. Lei ha sottolineato, tra l'altro, in questi giorni di campagna elettorale, quanto sia importante il valore delle donne all'interno della politica e della gestione della vita quotidiana? Il primo punto che lei solleva è importantissimo, ma non tanto per il riscontro personale, che ovviamente mi carica di responsabilità, ma per il riscontro che personaggi di prim'ordine della politica nazionale, l'onorevole Tajani, la ministra Carfagna, l'onorevole Ronzulli, sono venuti a Napoli per testimoniare il loro impegno per la città di Napoli e per questo progetto politico in cui Forza Italia si definisce come la forza politica trainante di questa aggregazione di società civile. E questo è il primo aspetto, ma non voglio trascurare l'aspetto del lato femminile della questione che lei ha richiamato. Ieri c'è stato un bellissimo incontro della ministra Carfagna, al quale ho avuto il piacere di partecipare, con le donne di Forza Italia. Questo è un gruppo che Napoli esprime di altissimo valore. Le donne purtroppo risentono, soprattutto al sud, di una minore scolarizzazione, di una maggiore difficoltà a trovare lavoro. Perfino in cardiologia, io farò il presidente della Società Italiana di Cardiologia, le donne sono curate peggio rispetto agli uomini per le malattie cardiovascolari e non solo. Quindi avere a fianco donne di valore come quelle che avevamo ieri e che la ministra Carfagna ha riunito è qualcosa che serve alla città e che rappresenta un buon viatico per il futuro. Lei è un federiciano, un professore federiciano. In tanti hanno sottolineato questo aspetto che in qualche modo non è nella coalizione invece di colui il quale è rappresentato il rettore dell'Università Federico II, vale a dire Manfredi. Come risponde a chi appunto sottolinea questo aspetto? Nella dialettica democratica si possono avere ovviamente dei punti di vista differenti e io ho molti punti di vista differenti da Gaetano Manfredi che è stato il mio rettore. Ma adesso parliamo di Gaetano Manfredi politico sceso il campo. Io trovo poco apprezzabile, poco rispettoso che chi si propone a fare il sindaco di una grande città si neghi al confronto democratico con le altre parti, si neghi alla possibilità di spiegare in contraddittorio e confrontandosi in maniera civile con gli altri partecipanti a queste elezioni amministrative sui programmi, su cosa si vuole fare sulla città ma anche vorrei dire sui metodi, sulla propria storia personale, su quello che è stato un po' diciamo l'esperienza da amministratore di grandi istituzioni come appunto la Federico II. Non si può essere assenti, ci sono dei rilievi che emergono dalla stampa, allora tutto si può fare ma è poco rispettoso e io credo che si debba arrivare al momento in cui Gaetano Manfredi venga un po' anche a spiegare alcune cose che stanno oggi sulle pagine dei giornali. Assolutamente. L'importanza del cambiamento da cittadino napoletano, che cosa è mancato in questi anni e che per l'appunto critica all'attuale gestione oscente, amministrazione? È mancato, si potrebbe dire facilmente, è mancato forse un po' tutto, è mancato il rapporto fiduciario tra amministrazione comunale e cittadini e noi dobbiamo ripartire da lì, dobbiamo far capire alle persone che siamo al loro fianco, certo tutti lo dicono, però io credo che se le persone guardano le liste che supportano Catello Maresca, se le persone guardano chi siamo nella lista di Forza Italia, è facile riscontrarlo, ognuno di noi ha una storia personale che testimonia. Io credo che per far rinascere questa città, per rimettere Napoli al centro dell'Europa, la capitale dell'Europa del Sud, dobbiamo ripartire da questo, chiedere collaborazioni ai cittadini, ma far capire ai cittadini che vogliamo ristabilire un rapporto virtuoso con la cittadinanza, piuttosto che chiedere solamente dando pochissimo. Tra i punti del programma del centro-destra, sicuramente grande importanza anche alla sicurezza e alla legalità, che sono un po' una piaga della nostra città per tante brave persone che invece la vivono. Lei tocca un punto fondamentale, il rapporto Ipsos, l'indagine Ipsos di pochi giorni fa, dice esattamente questo. La città, i cittadini vogliono sentirsi più sicuri, vogliono tornare in sicurezza alle proprie abitazioni, vogliono vivere la città in maniera tranquilla. Questo oggi non succede. E l'altro grande aspetto è quello del lavoro, sul quale ovviamente sono sicurezza e lavoro i grandi temi, le grandi esigenze che la cittadinanza ci segnala. E' chiaro che sicurezza significa qualità di vita delle persone, significa vivibilità di una città. Ed è sotto gli occhi di tutti che questa città, soprattutto in alcuni momenti della sua temporali, faccio per esempio il fine settimana o alcune situazioni particolari, è totalmente fuori controllo. I cittadini vogliono ripristinare quel minimo di controllo, anche da parte delle forze dell'ordine e quant'altro che li renda più tranquilli di vivere in serenità la bellezza di Napoli. Ecco, bellezza da valorizzare ancora di più perché ricordiamo che il turismo potrebbe rappresentare un importante volano per la nostra economia. Guardi, io per il lavoro che faccio ho spesso ospiti stranieri che vengono da tutto il mondo e ho tantissimi ovviamente ospiti italiani da fuori Napoli. Ci vogliono 30 secondi per far dire a tutti che Napoli è la città più bella del mondo. Quindi la bellezza è il primo patrimonio, un patrimonio immateriale formidabile di questa città, unico, perché Napoli è veramente la città più bella del mondo. Dobbiamo anche ricostruire il senso della bellezza, parlare di più della bellezza di Napoli perché questo aiuta anche ad un'attitudine verso la città che sia più costruttiva, che sia più partecipativa. Godiamo la bellezza di Napoli e cerchiamo di trarne anche da un punto di vista dello sviluppo della città quello che la bellezza ci può portare. Professore, noi siamo in chiusura, io le chiedo un appello direttamente ai nostri tre spettatori perché scegliere Catello Maresca Sindaco, quindi Forza Italia e quindi lei Perrone Filardi. Catello Maresca Sindaco io l'ho scelto dopo averlo conosciuto personalmente. Prima di scendere in campo, come si dice, l'ho conosciuto in una serie, in alcune occasioni private e mi sono convinto, come è anche facile riscontrare, del suo impegno spassionato per questa città. È un uomo che rischia la vita tutti i giorni, che ha contribuito tantissimo alla lotta alla criminalità, è un uomo animato dalla voglia di fare qualcosa di buono, di costruttivo per la città. Ed è la stessa forza con la quale traina tutti coloro che oggi vogliono dare una mano e che si sono impegnati. Tornando al mio caso personale, io lavoro per portare Catello Maresca a fare il Sindaco di Napoli perché questo rappresenterà la vera svolta, il vero cambiamento verso tutto quello che di vecchio e di già visto e di già organizzato c'è dall'altra parte. Cerchiamo di ribaltare un po' la situazione, sono convinto che ce la faremo, i segnali che abbiamo, noi stiamo in mezzo alla gente, non stiamo nei palazzi, non stiamo nelle stanze, noi camminiamo in mezzo alla gente e quindi abbiamo l'umore della gente, lo sentiamo dalla viva voce e quest'umore oggi sta scalando, sta facendo scalare Catello Maresca verso la vittoria e verso l'amministrazione di questa città. E allora grazie per essere stato con noi e naturalmente complimenti per il suo operato, bucca al lupo per la campagna elettorale. Crepi il lupo e grazie a voi per l'opportunità. Buonasera a voi, grazie per averci seguito. Buonasera.